L'UNICSTAR, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali. Ben trovati al meteo, rimonta piuttosto energica dell'anticiclone africano, bel tempo e caldo. Il dettaglio di domenica 9 luglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, tempo asciutto e stabile, con cielo sereno e sgombro da nubi. Isolati temporali saranno possibili sui rilievi. Temperature in ulteriore aumento, minime tra 18 e 23 gradi, massime sui 29 e 34 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole ovunque, cielo sereno su pianura e costa, qualche velatura in montagna. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime sui 31-33 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, con annuvolamenti e possibili locali rovesci o temporali, specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 34 all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'UnicStar, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.